Il futuro lavorativo appeso ad un filo sottile, il rinnovo dei contratti, dinanzi ad un futuro nebuloso, i lavoratori dell'indotto edile ieri si sono fermati spontaneamente per un'ora perché temono che all'ombra delle ciminiere si prospettino scenari pieni di insidie, di incertezze, di dubbi e preoccupazioni legittime. E' quanto sottolineano Franco Iudici, segretario generale della Filca Cisla di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Nunzio Mangione, responsabile territoriale di Caltanissetta della stessa organizzazione, Daltan di Dio, segretario generale Fenial Will e Francesco Cosca, segretario generale della Fillea CGL. Nel condividere la trepidazione che attraversa l'indotto edile e l'apprensione dei lavoratori, naturalmente anche quella delle loro famiglie, il sindacato delle costruzioni alza il livello di attenzione affinché non venga esercitata la posa dell'ultima pietra. La prima solitamente simboleggia l'inizio di un'opera, l'ultima alla fine di un lavoro assieme a qualche bullone mancante. Al cospetto di una città dilaniata dalla povertà sempre più diffusa e davanti al dramma che sta investendo la comunità, le federazioni sindacali del settore delle costruzioni hanno a cuore le sorti di questo battello che sembra navigare a vista e che non intravede l'orizzonte. Spinti da questo stato di assoluta emergenza, le organizzazioni sindacali investono del problema la raffineria di Gela. Ci sono, dicono, inquietudine ed apprensione che circondano il mondo del lavoro. L'Eni, firmatario del protocollo di legalità in prefettura e del protocollo d'intesa per l'area di Gela del 6 novembre del 2014, impegnandosi a valorizzare le aziende del territorio, eserciterà come sempre un controllo accurato e dettagliato sulle ditte che presentano la loro offerta di gara. L'esame attento e minuzioso sarà il segnale di garanzia per lo stesso colosso industriale che farà affidamento su aziende sane, serie e credibili, e anche per i lavoratori che vedranno assicurati il rispetto dei dettami previsti e contemplati dal contratto nazionale e provinciale di categoria. Situazioni diverse farebbero piombare nel buio assoluto il mondo del lavoro. Ecco perché confidiamo, come sempre, nella rigorosa e dirigente esame di Eni che punta sul rispetto delle regole e dei contratti di lavoro. Sarebbe oltremodo spiacevole, rilanciano le sigle sindacali, perdere altri segmenti di economia con il rischio di mettere sul lastrico altri lavoratori attualmente occupati. E' una minaccia che dobbiamo respingere. Significa continuare a dare altri colpi letali al territorio e al mondo del lavoro, perché per i tantissimi lavoratori impegnati nell'indotto edile le prospettive sono rarissime, anzi nulle, in un territorio economicamente depresso.